Buonasera salva a tutti oggi impareremo a fare il famoso coccio alla retina e solo Arezzo sanno fare e anche se non sono una retina diciamo che me ne intendo più che di loro a Siena sanno una sei che lì a Firenze ci provano lo sciufanno Allora se qualche d'uno gli ha da di qualche cosa che me lo venga a dire io prendo il cortello e gli sbucci il fratello Capito? Un so se ci sono un tesino, non è per vantazione ma come cucino io di mangiare Voi voi lo sognate, neanche ai cani voi siete capaci di far da mangiare come glielo fò io perché io ora Vi farò questa ricetta squisita, sanno una sega a Milano Allora in un pentolone voi ci buttate il latte e vuole fare ribollire 3 o 4 ore finché fare la schiuma Poi voi ci buttate la carota tritata mi raccomando Vedete bene bene Questo è un procedimento che va fatto sempre con le mani l'erci e copievi l'erci Se tu lo fai con le mani e copievi anche l'erci ti viene ancora meglio Vedete si va a rimestagnine Bene bene, si a rimestagnine forte forte Sempre tutto da fare, mi raccomando, nella ciotola di cane Una volta già presi il bollore, voi ci buttate e voi ci andate ad aggiungere le paste Questa pasta, questa pasta torcigliata, capito? Perché mi raccomando non bisogna mai far bollire la pasta nell'acqua Ma l'acqua la si fa bollire nel latte Perché gli italiani in Italia sbagliano La fanno bollire con l'acqua Una cosa ridicola Invece va fatta bollire nel latte Poi voi prendete la perofila di cane e voi riversate le paste dentro Una volta fatto questo procedimento, voi dovete andare ad aggiungere con le mani l'erci Dell'altro formaggio Formaggio cheddar Che l'americano Che l'americano cheddar Che sa di plastia Tipo, vedete, ho le mani Che spettacolarità Acqualina in bocca Ma io per questioni televisive di tempo Ne avevo belle fatto Ma andiamo adesso a tagnere Vedete che bellezza Che esquisitezza L'alima morbida Proprio morbida, morbida, morbida Vedete Gli fa questo Proprio la crosticina Diciamo Che gli dà qui gusto Qui retro gusto Di cardato Di maglione di lana Di proprio speziato di peola Vedete che bellezza Ma adesso Ne ne vò assaggiagnene Con questo è tutto Ci vediamo alla prossima ricetta